Maestà! Maestà! Eccolo. Capitano Francesco Baracca. Mi ha fatto prendere un bello spavento, sa? Mi dispiace, maestà. Ero affacciato al balcone della mia residenza quando l'ho vista duellare col nemico. Ho fatto il mio dovere da soldato, maestà. Ho chiesto subito un binocolo per poterla ammirare da vicino. Tutte quelle giravolte nel cielo, inseguirsi col nemico, e confesso, stavo col fiato sospeso. Mi dica, cosa si prova? Eccitazione, maestà. E paura. Ma siamo pronti a tutto. Bravo, Baracca! Sono i soldati come lei che ci faranno vincere questa guerra. Grazie, maestà. Grazie.